Il 35,5% degli studenti catanzaresi presenta dipendenza da internet, mentre il 4% potrebbe soffrire di una particolare sindrome. Riescono ad andare a scuola e a strappare una stentata sufficienza e poi trascorrono il resto della loro giornata su internet. E' quanto emerge dallo studio a cura di Donatella Marazziti, docente di pischiatria all'Università degli Studi di Pisa e del giornalista Mario Campanella, esperto di dipendenze e di disturbi dell'infanzia, presentato nella sala giunta della provincia di Catanzaro. Il progetto infatti è stato curato dall'amministrazione provinciale. Lo screening ha riguardato oltre 250 studenti di età tra i 14 e i 19 anni, provenienti da tutta la provincia e divisi per provenienza geografica. Sono stati coinvolti il liceo classico Galluppi e l'istituto tecnico Ferraris. Abbiamo fatto uno studio con la provincia di Catanzaro che ci tengo a dire è proprio uno studio pilota che riguarda la popolazione degli studenti delle scuole superiori. I risultati sono molto interessanti perché oltre al fatto che, ripeto e non mi stanco di ripetere, comunque uno studio pilota che deve servire da modello che può essere esportato in altre province e regioni italiane, dimostra che la dipendenza da nuove tecnologie è un fenomeno emergente e ha un'incidenza simile a quella riscontrata negli Stati Uniti, tra il 5 e il 10%.